Qua noi adesso vediamo il castello, vediamo che è un palazzo in realtà che non era lì all'origine, era più da questa parte e arriviamo finalmente al centro laico e commerciale della città. Questo è il luogo matrice di tutta la struttura e di tutta la forma del centro storico di Udine. Andiamo per prendere il caffè italiano a Merigo, che ne dici? Beh, questa direi che è una buona idea. Abbiamo trovato l'acqua a Merigo. Adesso il cortile, vedrai cosa troverai. In effetti qua c'è di tutto e c'è di più. Per arrivare al Palazzo del Patriarca, che sta lì di fronte a noi. in effetti qua c'è di più. in effetti qua c'è di più.